Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Quei due sul server 2 con la visuale di Reddits su una nuova partita Non è che l'abbiamo già fatta ed è la sua visuale Adesso vedete la visuale di Reddits su Takedown Reds 8 Allora, io sono Faggiano Dorato e Sinergo e Reddits Gli vogliamo svelare il segreto, ci siamo scambiati i pc in tutto qua Sì, ci siamo scambiati i pc per il momento Complimenti per il tuo mouse, è sempre molto comodo Eh, anche il tuo Allora, io vado di lancio, giusto? Vai, match start, corrisponde all'inizio Finalmente vedrete me giocare su Takedown, il campione indiscusso Tu non mi rovinare la media, mi raccomando Assolutamente no, penserò io a tutto Mi raccomando la media delle... Ah, i comandi da tastiera Ah, è vero che io sto... Allora, ci siamo scambiati i pc giustamente Come cazzo ti abbassi, ti abbassi, che odio che sei Pure qua ti si abbassa con c, comunque Allora, ma dai! Ah, l'ho fatto secco, ho fatto secco Ma perché hai fatto sta mappa di notte? Giusto per sapere È più bella, è più bella di notte Il cazzo è più bella Ce n'è uno lì, guarda Qual è il tasto per mettere fuoco? Alta Alta, occhio, occhio, occhio No, no, per cambiare, per mettere il fuoco alterna, cioè... Ah, non ne ho idea Non ho mai usato, però mai Allora, siamo troppo scoperti qua Siamo, sei una bestia proprio Vieni con me, vieni con me, andiamo Oh, merda Oh, Cristina, davvero Oh, Cristina, Cristina, aiuto, aiuto, aiuto Oddio, ce l'ho a destra, ce l'ho a destra Non mi posso affacciare Porca, ok, l'ho fatto secco Ce n'è uno, fermo, fermo Ok, è morto Madonna, ma se entravi, se saresti morto Oh, mi hanno sparato da dietro Cioè, sparato Ma vaffanculo, eravamo quasi riusciti a farla franca invece Ci ho fregato, porca Ma io ho appena realizzato che abbiamo un solo caricatore No, no, ce ne abbiamo quattro, quattro Ma perché sono rimasto... Vabbè, è inutile che io mi faccia queste domande Allora, caccia a tango, mi raccomando Perché è l'unico che riusciamo a fare Quindi non andava bene Radar Storm, di notte Dai, rifacciamo di notte Ma facciamo una di notte, però accendiamo le torce con la V No, così ti vedono da lontano Ma non è così, cioè tu sopravvaluti la I di sto gioco di merda Guarda che appena ti muovi ti hanno visto Anche se stanno a 600 kg Oh, allora, piano Piano Facciamo le cose fatte per te Ma tanto, appena spariamo... Appena spariamo, succede, succede quello che deve succedere Ok, uno ho fatto secco Oh, sto a fianco a te, eh Mi raccomando, passa velocemente, così ti ammazzo Accendo pure io la luce Ok Oh, oh, chi cazzo è? Via, 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 via Dov'è, dov'è? T'ha sparato, ha ammazzato Sì, l'ho ucciso, l'ho ucciso Grande Non mi sono cagato sotto Non capivo I suoni sono veramente tremendi dentro a sto gioco Allora, entrati qua dentro, c'è una scala che porta in alto Sì, oh merda Ho visto solo... Oh, occhio Ok, vai, vado avanti io Devo ricaricare, vai Ricarica? Ho ricaricato, tranquillo Ho chiuso la porta Madonna Non mi devi passare di fianco Che cazzo Soprattutto se a sinistra ci sono dei buchi Quindi non c'è nessuno Si è andato troppo sparato Devi essere più... Più stelta Guardalo Qua è libero Io butterei una granata sopra Guarda, ti faccio vedere Aspetti, i piccioni Aspetti che escono i piccioni Ma è una flash Merda Vai, vai Siamo cagato C'è un cazzo di nessuno buttato a casaccio Togliti, togliti Chi è? Chi è? È morto Uno Uno è morto Non so se ce n'erano altri Entro Entri Ma se ce n'era uno di fianco Saresti morto No, no Abbiamo già visto che non c'era Allora Usciamo Ok, qui non c'è Usciamo tu guardi Da sinistra e da destra 3, 2, 1 Vai Cazzo Giù, giù ce n'è uno Madonna Gli ho sparato in mezzale scale Aspetta Fammi affacciare da qua Vediamo se ce n'è qualcuno fuori Occhio che quelli da fuori ti sciottano Ok, non vedo niente Non c'è movimento Ragazzi Bisogna durare 3 minuti Andiamo sulla piattaforma Piano Fai piano Quando ti avvicini a un muro Il fucile si abbassa automaticamente Togliendoti la luce Oddio mio Non ce la faremo mai Che cosa vuoi per Natale Finire tec Allora Ci penso io Guarda Ti faccio vedere io Una granata avevo Una No, ce le ho io 4 ancora Aspetta Ok, non c'è nessuno Che facciamo? Riscendiamo da qua Dove sei? Non c'è un bene amato qua Sì, scendiamo Oh, troppe porte aperte qua Porte aperte significa che è uscita gente da là Allora, qui c'è una porta chiusa dietro di noi Andiamo a esplorare Ho tirato una granata Perché tiri le granate Potrebbero ucciderci Aspetta che vedo se c'è qualcuno qua Qui non c'è nessuno No, qui siamo venuti da qua Aspetta Sì, qui siamo venuti Però c'erano delle porte chiuse Orco cazzo Le mappe di merda Tutte uguali Dove sei? Ancora ci spariamo addosso Sto uscendo da una porta Aspetta Ok, sto uscendo da una porta Non mi sparare Allora, io sto fuori Sto sulla scala fuori Ma su che piano sei? Aspetta Io sono giù Sto scendendo Arrivo, arrivo, arrivo giù Non mi sparare Sono giù Madonna L'ho detto non mi sparare Madonna il riflesso Non è condizionato quel riflesso Piano Fammi stare in puntamento se esci con Allora, da lì, da lì in fondo Da quella dove punto io Da lì in giù Dovrebbe uscire uno Me lo ricordo perché è uno stronzo bastardo Che mi ha secato più volte Dai, vai, vai Ti vengo dietro Allora, io mi affaccio qua nel mentre Che non si sa mai Non c'è nessuno Ok Che facciamo? Procediamo o entriamo in quest'altro riflesso? Ah, io direi di procedere perché Andiamo avanti? No, aspè, entriamo qua dentro dai Facciamo irruzione Facciamo irruzione qua Controlla qua dalla finestra Vedi se c'è gente Qua è libero Allora, ma faccio prima di qua E poi valutiamo se entrare O chi cazzo è? Sono morto Come sei morto? Non lo so Dove cazzo sei? Battene Battene La portata Battene da lì Sei sottotiro Non so da chi Ma sei sottotiro Dove cazzo è? Non lo so Non mettere fuori il naso Entra dentro Usa la porta Ma, sì Ma non vi voglio capire Dove cazzo ti hanno sparato Adesso morirai pure tu Perché se sono morto io Non c'è nessuno qui Io sono morto Sei morto per lo spirito santo Adesso entro da qua Maggia il cazzo Che morte di merda Tu vedi se mi devo finire il gioco da solo adesso Dove cazzo è? Aspetta Sono concentrato Sono molto concentrato Bravo Sei un bravo pomodoro Vai Dio mio Queste cose mi deconcentrano Allora Di lì il gioco che ho visto Non c'è niente Io non ho idea Di chi ti abbia sparato Eh manco io Però Lo spirito santo È stato un misto tra Babbo Natale Gesù e la fatina dei denti Allora Qui è vuoto Guarda Guarda come mi affaccio Guarda Ho cazzo Butta granata Madonna che schifo Vai Come sono fatte a morire? Non lo so Quello è morto di infarto Sono sicuro Che una flashbang Non ha mai ucciso nessuno Che brutta Madonna Gli hai smitragliato a fianco proprio Che facciamo? Tentiamo un'altra? Io direi di provarci Dai Pure se viene lunga Tanto sappiamo che piace Allora Che facciamo? Sempre cacciattango E Sì Ragazzi Il prossimo che dice Che Dark Souls È il gioco più difficile dell'anno E io gli sputano In tutti gli occhi Che facciamo? Rifacciamo di radar? Sì 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 Ogni gameplay è una mappa Così la impariamo un po' Ogni gameplay è una mappa Ogni gameplay è un paio di morti È diverso Io e te Due sì Allora E se corressimo Se corressimo dall'altra parte della mappa Che non abbiamo mai visto Sì Direi che è una buona idea Secondo me moriamo abbastanza velocemente Allora noi Andiamo subito a destra No Bravo Mi hanno sparato Mi hanno sparato Non ho idea di chi mi abbia sparato Ce n'è uno in fondo Ma non credo sia stato lui Ok è morto Sì ma io sono messo malissimo Vai che tanto ha Sì tanto Ah ecco chi è stato Quello là sopra mi ha sparato Allora vieni con me Vieni con me Dove dove? C'è una guardia qua dentro La vedi? Sparagli Occhio occhio Questo adesso esce fuori da qua Non muore L'ho ammazzato da qua dentro E' morto tramite il vetro Ok andiamo di qua Dove siamo andati prima Morirai Dove sei? Qua Andrò un attimo qua Mi rifa... Chi è? Cazzo No! Non ti ho sparato io Allora no ma l'ho ucciso loro infatti Chi è stato però? Eh attento Dall'altra parte della porta C'è un tizio Lì Lì lo aveva aperto Alla tua sinistra Dovrebbe stare Ce n'era pure uno Who's there? Alla tua sinistra? No stava pure uno fuori A sinistra Oltre a quello di Ragazzi è andata così Questa volta abbiamo perso Questa volta Un giorno lo faremo Riempiremo tutta questa lista Un giorno E andremo a ammazzare tutti Sì Siamo d'accordo